Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo nella serie delle 7 Allora ragazzoli, io sono andato avanti fino a fine giugno, ci sono stati qualche novità ma ora la vedremo con calma Sono andato avanti fino a fine stagione, così concludiamo questa stagione assieme e partiamo subito per la vostra stagione in questo stesso video Quali sono le novità? 1. Allora, io non ho letto alcuni messaggi molto carini che sono, ovvero, me li hanno cancellati, ottimo Comunque, la dirigenza era contenta perché abbiamo vinto il campionato, signori miei Siamo arrivati primi con 109 punti, secondo l'All City a 103, terzo il Portsmouth, oppure lui a 103 Andiamo a vedere un attimino i compiti che ci hanno dato a inizio stagione, ovvero, mantieni gli stipendi con la lì Fai crescere il 50%, questo è per il prossimo, fai il tutto esaurito per il 50% delle partite, l'abbiamo fatto Fai il tutto esaurito, l'abbiamo fatto, non siamo arrivati ai sedicesimi finali in FA Cup, non so cosa voglia dire L'otto per la promozione siamo arrivati primi, abbiamo vinto il campionato ragazzi Mantieni l'ingaggio sotto il 20%, crescita attuale 0%, questo quindi ci siamo riusciti Tra l'altro c'è stata anche un'immagine che purtroppo non vi posso fare vedere In cui c'era il nostro comodino, il nostro papamaulo contento perché ci hanno dato la Coppa E ci stanno facendo le interviste lì in questo riguardo a destra con noi con la Coppa perché abbiamo vinto la Ligue 1 Detto questo ragazzi, prima di entrare ancora di più dentro il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti E per il supporto che sta dando a questa serie, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maulo941 Sia su Facebook che su Instagram, i link sono in descrizione E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione Tramite l'applicazione Paypal, detto questo partiamo con il video Allora ragazzuoli, prima di procedere io voglio farvi vedere un'altra cosa, un'altra cosa Ovvero, io ho trovato degli altri giovani, il nostro osservatore ci hanno portato degli altri giovani interessanti Ovvero abbiamo questo Lino Rivera, spagnolo, ma è all'esterno-sinistro, 78-94-15 anni Musan Ponsa, forse l'avevamo visto assieme Poi abbiamo questo Keiko Diaganao, che è un TS 80-86, buono Il nostro portiere di Adama Guillermo Alvarez, Ibanez, esterno-sinistro, spagnolo Franco Gomez, questo è un difensore centrale Spagnolo, 70-94, questo abbiamo allenato la raga e abbiamo un nostro nuovo difensore centrale E poi sulla destra abbiamo trovato questo Alexander Neistrom dalla Svezia, che è un 48 ma ha un potenziale fra 78 e 94 Oscar Eriksson, sempre sulla sinistra, che ha un potenziale di 77-94 e attualmente un 53 E Osame Kuruma, che è attualmente un 50, ha un potenziale fra 75 e 91 Quindi io penso che tra Kuruma e Alexander sarà meglio tenere Alexander Il problema è che Alexander ha 15 anni Perché ripeto raga, io voglio vendere Osallivan e far crescere uno dei nostri giovani Detto questo, signori miei Un'altra cosa che voglio fare, prima di chiudere la stagione, signori miei Una volta che abbiamo i soldi che ci sono rimasti, mi sto un attimo a confondere E' quello di andare a rinnovare i contratti Così ci spariamo i soldi che ci sono rimasti rinnovando i contratti E l'anno prossimo non abbiamo problemi Vediamo un attimino Allora, Raja è in scadenza Ma lo lasciamo lì dov'è perché tanto troveremo un esterno destro con quale sostituirlo Anche quando è un 59 a 34 anni Va bene così McKinley scade fra un anno e un mese Quindi andiamo a delegare per il rinnovo Lui prende 7000 Tra 2 e 9 Allora, no, 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 no Zio, facciamo fra 1 e 9 E 2 e 7 Dai, non ti allargare più di tanto, zio Cruciale, 1 e 9 Perfetto, ok McKinley ha rinnovato Taylor che è in prestito Possiamo rinnovarli? No Nicholson per forza Allora, Nicholson prende 2 e 1 Deleghiamo per il rinnovo 5 e 2 Mi sembra un po' esagerati, zio Io direi di partire da 2 2 2 6 2 e 6 Fino ad arrivare a un massimo di 4 e 5 Non ti offro di più, zio Ha accettato 3 Buono Che quanto ha accettato forse è cruciale Mariani Lo andiamo a rinnovare pure Mariani prende 500 Trattativa per il rinnovo 500 No Allora, io ti offro intanto 1000 Ma Punto di partenza Fino non andiamo oltre i 2000 Dai, voglio essere Voglio essere sbuono Prende 1000 Turnover Bravo Mariani Bravo Mariani Poi abbiamo Raid Ok Attualmente turnover 500 Deleghiamo il rinnovo 2 e 4 Mi sembra un po' esagerato Partiamo anche lui con 1000 Signori miei Fino ad arrivare a un massimo di 1800 Dai Non penso che voglia di più 1600 Importante Va bene, va bene Importante ci può stare Comunque non è Tra i titolari inamovibili Casa dei Andiamo a rinnovare pure Signori miei Le chiamo il rinnovo Lui prende 500 Sparano tutti alto comunque I punti di partenza Dai 1000 e 2000 massimo Va a prendere 1 e 2 Come importante Va bene Sullivan Sullivan lo vendiamo Raga Quindi non rinnoviamo niente Johnson Glielo rinnovo Anche se spero che Questo giocatore Non intende rinnovare Il contatto con questo Ok Johnson Trova di una squadra Non rompe le scatole Brahman Andiamo a rinnovare anche a lui Ragazzuoli Tra 700 e 1000 Va bene Sporatico Perfetto Brahman Watanabe 500 Deleghiamo il rinnovo 700 e 1000 Sporatico Ok Amponsa Trattativa e delega rinnovo Tra 1000 e 1500 Importante Amponsa è un po' che ci ha fregato Cunningham Deleghiamo il rinnovo Tra 700 e 1000 Promessa Va bene Va bene Esposito Rinnoviamo anche a lui Delega rinnovo Tra 750 e 1000 Sporatico Va bene Naga rinnoviamo anche a lui Ragazzuoli Così ce li abbiamo Tra 4 e 5 Ma che stai di naga Ma quanto prende naga Scusatemi Naga prende 500 Ma che stai di naga Oh ma che ti sei fumato Naga mio Allora Tu prendi 500 Quindi Ripartiamo da 1500 Voglio essere buono Dai 1500 1500 Fino a 2005 Dai Ecco 2001 Clause recissoria di 16000 Porca miseria Mi hanno fregato con la clause del recissorio Importante Va bene Teco Teco Lo rinnoviamo pure Non si sa mai Ne prende 500 Fra 700 Ok Dudu Teco Dudu Chi è Teco Dudu Scusatemi Teco Dudu Forse erano uno dei giovani Che abbiamo Vabbè ma Teco Dudu Riscata fra 3 anni Il contratto Ok E questa era una cosa Volevo fare L'altra cosa Volevo fare E andare a prenderci Un Osservatore Ancora migliore Quindi Leviamo All array E avanti Richiamo Osservatore A lui è in viaggio Ok Vediamo di riuscirlo a vendere Prima che finisce la stagione Con i soldi che ci sono rimasti Il budget Ci andiamo a prendere Un signor Osservatore Raga Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Arrivato e pronto Perfetto Perfetto Giocatore infortunato Chi McKillia per 3 giorni Va bene Va bene Trasferimenti Andiamo in ufficio Andiamo a prendere Il nostro osservatore Lo andiamo a licenziare Licenze osservatore Ciao E ci andiamo a prendere Un osservatore Un poco meglio Tipo Charlie Ball Charlie Bell Signori miei Charlie Bell Che secondo me È un grande osservatore Così Un poco di budget Ce lo siamo tenuti Questo è vero Potevamo spararcelo tutto Però meglio Meglio così Che Avere quello di prima Non l'abbiamo andato A nessuna parte Perché ora Faremo il resoconto Il giocatore infortunato Ma l'hai già detto Faremo un attimino Chiuderemo questa stagione Signori miei E dalla prossima Ripartiamo da 0 Sono tornati i giocatori Dal prestiti Ora lui Sicuramente prenderà Un po' di tempo Per sistemarsi Tutto quanto Termina la stagione Vediamo se vogliono Continuare con noi Inoltre il giocatore Lo staff Chiaramente entusiasmi Con lei E saremo pertanto felici Di portare ancora Va bene Ok Ok ragazzoli Stagione terminata Opzioni Andiamo avanti E prepariamoci Per la nuova stagione Ok signori Siamo agli inviti Del torneo estivo Siamo agli inviti Del torneo estivo Andiamo agli inviti Allora vediamo un attimino Abbiamo 4 e 2 5 e 3 e 4 Io direi di andare Qua sul 4 e 2 Che è una via di mezzo 3 stellette e mezzo E' inutile puntare Puntiamo su quello più forte Dai raga Ma si C'è il parma C'è il benevento C'è il benevento E c'è il like Andiamo su quello Con più soldi Mettiamo i centrocampisti Mettiamo i centrocampisti Andiamo a cercare Un canadese In Messico Voglio il nuovo Hernández Signori miei Lo mandiamo in Messico Per forza Ok Quello nuovo Lo mandiamo in Messico E quest'altro invece Lo mandiamo Lo mandiamo Un arabo Raga Ci manca un arabo Dove sta Qua Ci manca un arabo Raga Voglio un arabo In squadra Porca miseria Se troviamo dei giocatori Di questa Di questa classe Facciamo il botto Allora Questa è partita Questa è partita Cooperazionale Ok E questo l'abbiamo fatto Ora Cos'altro possiamo fare Prima di Allora Ecco Budget 9 milioni Visto abbiamo fatto bene A prendere l'osservatore E a mantenerci Un buon profitto Siamo sui 6 milioni 6 milioni Dai 6 milioni Dai È fattibile È buono Vediamo gli obiettivi Della Della Dirigenza Allora Raggiungi I sedicesimi finali Nel fake up Ok Termina a metà classifica Della championship Ok Termina stagione Con un margine Il guadagno è di 20 mila Non ci riusciremo mai Cresci da giovani E fai giocare il 50% Ok Aumenta il numero Gli abbonati Ad almeno il 10% Della capenza Dello stadio Dentro 3 stagioni Ok Questa non c'è Metà classifica È quella di lì E il guadagno Di 20 mila Di 20 mila euro Non ci riusciremo mai A meno che Non vendiamo Qualcuno Dei nostri prezzi Pregiati E spererei Proprio di no Allora ragazzoli Io in questo momento Mi fermo qui Abbiamo fatto un attimo Il punto della situazione Nel prossimo video Ci addentreremo Andremo a cercare Di svincolati Vedremo effettivamente Come combina Nella squadra Vedremo chi mandare sul mercato E chi prenderà i giovanili Ma questo è tutto Nel prossimo video Ragazzoli Detto questo Vi ringrazio per i like Per i commenti Per le visualizzazioni E per tutto quanto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao